Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, finalmente è tornata la Serie A, è ritornato il nostro Milan Benvenuti a tutti alla nuova live reaction, Milan-Venezia Siamo ancora alla ricerca alla prima pittoria stagionale Dopo tre partite siamo a due punti con due pareggi e una sconfitta Speriamo di vincere col Venezia, sarà difficile, tutto esaurito, contestazione da parte della curva Con due striscioni, basta scuse E preghiamo ragazzi, buona fortuna a tutti noi Mai fidarsi del Milan, siamo capaci di far vincere il Venezia la sua prima vittoria stagionale Questi siamo noi Comunque, buona visione a tutti e buona live reaction a tutti quanti Forza sempre Milan Fufana, Loftus-Cic, si abbassa sulla mediana Teo, Leao, fa lo strappo a sinistra Va via su due, Leao, Leao se c'entra Poi si dimentica il pallore, va vaffanculo, va Bravo Teo, dopo la palla Leao, vi tacco per Teo, Teo in aria, Teo, Teo, Teo Tirooo, l'Interna Mezza papra del portiere 1-0 Eserisce le critiche così Tec, tec, tec Teo Hernandez Il torsino più forte Mezza papra del portiere Dopo due minuti, bravi Meno male Nooo, mamma ragazzi Stavo gioco, mamma mia, cambia, via, via Quella uscita da dietro, ragazzi, mamma mia Mamma mia, lì dietro Ma per una brutta palla Dopo il tiro Fin di palo, ma ragazzi Su, attenti Prossimo mezzo di testa E 2-0 Gabbia Come a Roma Come a Roma con la Lazio Cancio l'angolo sulla sinistra Segna un difensore Stavolta lo paulis Ma Gabbia Che la mette lì E l'insacca 2-0 Bravo Renders Ruba palla Power Renders Renders Entra in area Prova il tiro Pare il portiere Poi Ebro Non salta Rigore 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 Calcio di rigore Calcio di rigore Mamma mia Vedel Venezia Che disastro Pulisic Pulisic Rigore chiaramente confermato Grazie a Luca Marelli In corsa molto breve Di Christian Pulisic Pulisic Contro Yoronen Pulisic 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 Dal dischetto Parte Centrale 3-0 Capitano America Mette il sigillo E secondo gol Stagionale di Pulisic Secondo gol Stagionale di Pulisic Il migliore esterno Della Serie A 3-0 Shut up Ok c'è Leao No non è rigore No non c'è nulla Alza Tirai Rafa Dai non simulare Alzati Non c'è nulla Ragazzi Il pestone c'è però Ragazzi Questo è rigore Bar C'è il bar Ragazzi Ma il pallone Sostenere Dov'è Calcio di rigore Ebram Temi Ebram Va Ebram 4-0 Stradiamo il poker Gole all'esordio Tieni Ebram Chapeau Assista in gol Due partite Segui stato pure il rigore 4-0 Grazie Roma Grazie Grazie Roma Grazie Roma Il Venezia Filtrante Sterza Il tiro centrale Para Para Magnen Solo ristagno Paglia di Oren Mamma mia Loftus Che è un gigante Taglia Bello per Leao 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 Mi dice di no Peccato Bravo Loftus Che chiude Ha preso pure Un colpo Dello scontro Allo slancio Rimasti due Due giudizioni da terra Uno del Venezia Uno del nostro Olo col Venezia In attacco Sulla destra Grossi in mezzo No Il tiro No Ma dai Ragazzi Ma non si può Prendere gol così Dai Ma che cazzo Facciamo Ma pure Emerson Royale Ma dai Ma pure Ma non si può Prendere Abbiamo preso pure Gol da Venezia Ma dai Ma dai Ma non si Ma perché C'è il controllo Bar Il fallo Speriamo Speriamo che è fallo Pericoloso Perché è vero che tocca il pallone Ma poi perde completamente il controllo Della sua Del suo corpo E con i tacchetti Fa sul colpaccio Del giocatore del Milan Che credo fosse Abraham E a mio parere Questo è un Fallo Di Marco Doppio cartellino Rosso Ah Doppio cartellino Era già munito Annullato Teo 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 Hernandez Padone alla limite Per Loftus Che apri a destra Per Emerson Royale Poggia alla limite Loftus Prova il tiro Molto forte Sopra la traversa Felicissimo Al 5 a 0 Avvenso Royale Musa E' finita Vittoria 4 a 0 E adesso Ci aspetterà Il Liverpool Martedì Dai 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 Anche mezz'ora La risorsa